Parte da domani il sistema di videosorveglianza Gela, uno strumento di controllo che permetterà attraverso delle telecamere installate nel centro storico e a Macchitella la rilevazione automatica dei veicoli che accederanno nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali in orari vietati. Il sistema verrà avviato in una prima fase di preesercizio che vedrà per 30 giorni la presenza dei vigili urbani sul posto. Subito dopo i cittadini dovranno essere consapevoli della presenza della zona a traffico limitato segnalata dalla scritta Varcoattivo e quindi provvedere a non trasgredire. Il servizio è autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Abbiamo pensato di estendere il sistema operativo non solo al controllo per l'ingresso nella zona a traffico limitato ma anche al controllo per la mancanza di assicurazione e per la mancanza di revisione. Che succede in questo caso se un'autovettura passa senza essere assicurata? Il sistema manterrà l'impulso direttamente al nostro operatore remoto che si trova in centrale, rileverà la mancanza di assicurazione e scatterà automaticamente il verbale con il successivo sequestro fermo dell'autovettura. Le telecamere sono state collocate nel centro storico in via Marconi, piazza Umberto I, via Fischetti e via Morello e a Macchitella in viale Corte Maggiore. La legge consente al codice della strada appunto l'accesso e diciamo a Gela ce ne sono parecchie, sono circa i 1500 che abbiamo inserito nella white list e effettivamente abbiamo invitato noi tramite i nostri collaboratori a inviare delle lettere e invitarli tutti al comando affinché ci indicassero questo nome di tag. Diciamo oggi ai diversamente abili a inserire la white list ci saranno tutte le forze dell'ordine, ci saranno tutti i punti d'intervento, quindi i last, le persone, per esempio i tassisti. Sono inseriti anche i residenti che lungo il tratto appunto del corso Vittorio Emanuele hanno dove parcare la macchina e quindi o quelli che debbano obbligatoriamente passare per andare verso casa. Il verbale per i trasgressori inseriti a loro volta nella black list verrà notificato direttamente all'indirizzo di residenza. Gli orari previsti per le zone a traffico limitato sono i seguenti per il centro storico dalle 18 alle 21 nel periodo invernale e dalle 19 alle 22 in quello estivo e a Macchitella dalle 9 alle 14 nel periodo invernale e dalle 21 alle 2 in quello estivo.